Levantes o John Luke Street style perfetto, la classe non è acqua La classe non è acqua e questa volta si può ben dire, perché la persona in questione è Levante. In poco tempo la cantante si è trasformata da star della musica italiana a una vera e propria trendsetter. Il merito è sicuramente dei social, su Instagram Levante pubblica quasi ogni giorno foto della sua quotidianità, dei suoi momenti di lavoro, ma soprattutto dei suoi outfit sempre molto alla moda. Il suo gusto impeccabile nelle composizioni e nella creazione dei look non passa di certo inosservato e il serpente che ha sfoggiato sulla spalla poche ore fa ne è una prova. Il serpente è trendy. Non sono molte le personalità dello spettacolo che sfoggiano outfit così fuori dalle righe, ma Levante è sicuramente una di queste. Il suo carattere eclettico e alternativo le ha permesso di guadagnare fette sempre più grandi di pubblico, sia durante le sue apparizioni televisive, sia in particolare sui social. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 350 mila persone che ogni giorno la riempiono di like e commenti. . Poche ore fa la star ha condiviso una foto che la ritraeva con un outfit street style perfetto, un cappotto grigio autunnale, un paio di jeans scuri a vita alta, una maglia bianca, un paio di occhiali coprenti e un cappellino da baseball. . Il tocco trendy è stato conferito dal serpente che aveva adagiato sulla spalla, che faceva parte della tracolla della sua borsetta. . Il suo look e il suo charme non sono passati inosservati e Levante ha dato una grande lezione di stile a tutti i fan che la seguono assiduamente, la foto ha raggiunto in poco tempo più di 31 mila like e oltre 200 commenti. . L'estetica esplosiva di Levante. . . Non appena si guarda il suo profilo Instagram si capisce subito che Levante ha un grande gusto in fatto di estetica e composizione delle foto. . La star predilige colori tedui, come il bianco, spondi minimal o atmosferi vintage. . Anche i suoi look seguono di pari passo l'ambientazione delle sue foto, per lei sono capi immancabili i cappotti lunghi fino ai piedi, i cappelli a banda larga, i maglioni e le t-shirt con scritte stampate, infine i denim a vita alta decolorati. . . Sia che si trovi in casa, sia che invece sia in giro per Milano, Torino o Roma, Levante sa sempre come conquistare il suo pubblico. . . Fiori, specchi, vecchie polaroide e strumenti musicali sono all'ordine del giorno nei suoi scatti, che raggiungono sempre migliaia di like e commenti di apprezzamento. . . A ribadire la sua personalità fuori dalle righe, ci sono anche le caption delle foto in cui l'artista racconta aneddoti di vita privata, pensieri e testi delle sue canzoni. . 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